Indagini contro la microcriminalità Cuneo, la squadra mobile ha arrestato due uomini sorpresi a spacciare cocaina in città. Dopo l'emergenza le città della Granda tornano lentamente alla normalità, siamo andati a vedere la situazione nei comuni di Busca e di Boves. Confartigianato in prese Cuneo festeggia i 75 anni di vita associativa, la ricorrenza celebrata con la consegna di una bandiera a 18 sindaci della Granda. Dal primo luglio un rinnovato servizio di trasporto pubblico locale ed extraurbano a Mondovi, presentato durante una conferenza stampa viaggiante. Ben ritrovati cari telespettatori di Telegrand ad un nuovo appuntamento con l'informazione della nostra emittente. Apriamo questa edizione del telegiornale con la cronaca che ci porta a Cuneo. Nei giorni scorsi, come ricorderete, siamo tornati a parlare delle problematiche vissute dai residenti del quartiere tra Corso Giolitti e la stazione ferroviaria. Come annunciato durante un incontro proprio con il comitato di quartiere dal commissario Chilla, i controlli condotti in città dalla squadra mobile hanno portato ad importanti risultati. Due arresti di altrettanti spacciatori. Vediamo. Due arresti per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. E questo il bilancio delle indagini condotte dalla squadra mobile di Cuneo alla fine del mese di maggio. Due casi distinti. Il primo riguarda un uomo di 39 anni italiano colto in flagranza di reato di spaccio di cocaina. È successo nell'area della stazione ferroviaria, spesso al centro di polemiche da parte dei residenti, anche negli ultimi giorni. La polizia ha fermato lo spacciatore ed il cliente, al quale è stata emessa una multa e ritirata la patente. In casa dello spacciatore, invece, è stata trovata altra cocaina, già confezionata in dosi per la vendita, un bilancino per il dosaggio e materiale per il confezionamento, da cui l'arresto l'uomo ha precedenti ed ora è in regime di custodia domiciliare. Anche il secondo arresto è avvenuto a Cuneo. Si tratta di un uomo di 60 anni, italiano, sorpresa a spacciare nel centro storico della città dei Sette Assedi. L'uomo, stando alle indagini, aveva contatti per la cessione dello spaccio un po' in tutta la città. Gli ulteriori accertamenti hanno permesso di recuperare circa 10 grammi di cocaina che l'uomo nascondeva interrandola in un parco cittadino. Anche lui, noto alle forze dell'ordine, per reati simili è stato arrestato. Con queste operazioni diamo delle risposte alle richieste di attenzione da parte dei cittadini, ha spiegato il dirigente della mobile Pietro Nen. Sappiamo che a Cuneo la zona più critica per gli episodi di criminalità è quella di Corso Giolitti. Da tempo ci stiamo adoperando per reprimere questi fenomeni. Sappiamo che c'è ancora molto da fare, ma negli ultimi mesi ci sono stati dei risultati. E proseguiamo con la cronaca in particolare parlando dei controlli delle fiamme gialle durante le passate settimane di emergenza coronavirus. I finanzieri della Granda hanno controllato durante quel periodo più di 2.000 persone. Allora nel prossimo servizio sentiamo che cosa ha emerso. Sono più di 2.000 i cittadini che sono stati controllati dalle fiamme gialle della Granda durante le passate settimane di emergenza coronavirus. Un'attività intensa volta a verificare il rispetto delle restrizioni in vigore sul contenimento dell'epidemia durante le cosiddette fasi 1 e 2 ed in parte ancora anche nella fase attuale. I reparti operativi del Comando Provinciale di Cuneo, sulla base delle ordinanze della Questura insieme alle altre forze di polizia e con il coordinamento della Prefettura di Cuneo, hanno eseguito quotidianamente controlli sul territorio nei confronti di cittadini ed imprese proprio per scovare comportamenti illeciti. Nella prima fase, in cui la violazione costituiva reato, sono stati denunciati nove soggetti sorpresi a circolare senza giustificazione valida. Una volta poi entrata in vigore la norma che ha introdotto specifiche violazioni di natura amministrativa, con conseguenti sanzioni economiche, i finanziari della Granda hanno verbalizzato 166 cittadini che avevano violato le direttive sul contenimento ed hanno inoltre controllato 136 esercizi commerciali, sanzionando tre titolari con la sospensione dell'attività per un periodo massimo di cinque giorni. Inoltre, sempre nello stesso periodo, sono state individuate e sequestrate più di 87.000 mascherine chirurgiche non conformi alla legge. L'attività di controllo delle fiamme gialle ovviamente non si ferma e prosegue anche in questa fase, in particolare per quanto riguarda il divieto d'assembramento ed il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione. Un'azione volta chiaramente alla tutela di cittadini ed imprese, specialmente di quelli che si attengono alle regole. Nella cronaca anche la querela annunciata dall'ente animalista Stop Animal Crime contro il presunto autore di una grave serie di maltrattamenti ai danni di cinque gatti domestici a Vignolo. L'uomo, utilizzando un fucile ad aria compressa, avrebbe sparato agli animali ferendoli gravemente. La pratica di sparare ad animali da compagnia ed uccelli è ancora oggi molto diffusa in molte aree d'Italia, scrive in una nota proprio la Stop Animal Crime. In Italia, pistole e fucili ad aria compressa sono liberamente acquistabili da qualunque maggiorenne, lasciando fuori controllo chissà quante migliaia di persone in possesso di armi, in cui grado di offensività, seppur non potenzialmente mortale per gli umani, di certo lo è per gli animali da compagnia e per gli animali selvatici. Questa la nota dell'associazione. Ricordiamo che il maltrattamento di animali è un reato penale punito con la reclusione da 3 a 18 mesi oppure con la multa da 5.000 a 30.000 euro. Ed ora, come di consueto, andiamo a dare uno sguardo ai dati in merito alla situazione coronavirus diffusi dall'unità di crisi della regione Piemonte, che come sempre ci danno il quadro sia a livello regionale che a livello provinciale. Allora, se la grafica è pronta, li vediamo insieme. A partire, come sempre, dai decessi per la giornata del 12 giugno. In Piemonte si registrano 8 nuovi decessi, 3.996 il totale, ovviamente a livello regionale. Nessun nuovo decesso invece a livello provinciale dove il totale è di 389, scusate. Andiamo avanti guardando i contagi. In Piemonte in totale sono 30.989, 31 quelli nuovi. A livello invece provinciale, quelli nuovi sono 3, 2.823 quelli complessivi. E infine chiudiamo come sempre con i guariti, 21.856 quelli a livello regionale in totale, 99 i nuovi guariti, 19 invece i nuovi guariti in grande, dove il totale arriva a 2.110. Ed ora ci spostiamo a Mondovì perché nel corso di una conferenza stampa viaggiante è stato presentato il rinnovato servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano con importanti novità anche per quanto riguarda le tariffe di viaggio per la funicolare che collega la città al quartiere di Piazza Maggiore. Da mercoledì 1 luglio cambia il trasporto pubblico locale di Mondovì. Il comune insieme all'Agenzia della Mobilità Piemontese e al consorzio Grandabus ha presentato venerdì 12 giugno nel corso di una conferenza stampa itinerante a bordo di un autobus il nuovo servizio di mobilità più capillare e cadenzato per connettere la città collegando centro storico, rioni e poli di interesse Carassone, Breo, Piazza, Ferrone, Ospedale, Altipiano, Stazione e Mondovicino. Il servizio si articola in quattro linee di cui due di nuova introduzione. La linea 1 e la linea 2 attraversano il centro città e servono la funicolare accessibile con un piccolo spostamento a piedi di circa 5 minuti. La linea 3 effettuando un percorso circolare collega sistematicamente Piazza Maggiore e Rione di Breo. La linea 4 collega la stazione ferroviaria a Mondovicino. Daremo una grande possibilità ai cittadini che è quella di poter viaggiare finalmente su un trasporto pubblico competitivo e di livello e di qualità. Quindi avremo un servizio che potrà benissimo farci tenere la macchina a casa proprio nel rispetto anche dell'ambiente e dell'ecologia in generale. Quindi mi auspico che i cittadini moregalesi colgano questa opportunità anche perché è un'opportunità che ha molte offerte economicamente valide e delle nuove sorprese proprio per quanto riguarda sia la funicolare sia le frazioni che non sono mai state servite da alcun servizio pubblico e avremo un servizio unico in tutta la provincia di Cuneo applicato all'ambiente urbano che è un servizio a conferma. Finalmente i cittadini moregalesi possono fruire di un vero servizio di trasporto pubblico perché come dico sempre io per fare un esempio se un bus passa ogni due ore nessuno lo prende invece se passa ogni mezz'ora c'è effettivamente una possibilità di prenderlo. E poi questa grossa soddisfazione per la funicolare che credo sarà molto apprezzata. Era richiesto da tempo effettivamente una variazione? Ma sì assolutamente lo stavo testé spiegando al sindaco di Saluzzo il problema della funicolare è sempre stato che un biglietto a 1,30 euro che durava un'ora non consentiva una fruibilità del mezzo perché alla fine diventava eccessivamente dispendioso. Dal primo luglio per i residenti costerà 50 centesimi a tratta quindi possiamo tranquillamente affermare che l'andata e ritorno costerà 1 euro senza limitazioni di durata. Se oggi che è il 12 giugno mi costa 1,30 euro prendere la funicolare andare a Breo e tornare in un'ora dal primo luglio mi costerà 1 euro ma soprattutto se io prendo oggi la funicolare e ritorno fra un'ora e mezza mi costa 2,60 euro e dal primo luglio mi costerà sempre 1 euro. Quindi c'è una bella differenza. Sicuramente. Sindaco una bella sinergia fra Mondovì e Saluzzo collegata fra l'altro dal trasporto. Il collega di Mondovì Paolo Di Reano e la sua giunta sono stati molto gentili ad invitarmi. Sono stato presidente del Bacino Sud proprio quando abbiamo sottoscritto il patto della mobilità prima provincia del Piemonte a fare un'analisi complessiva dei fabbisogni di trasporto pubblico locale sia urbano che extraurbano è servito per compensare le risorse e ridistribuirle in maniera più efficace. Con Mondovì si completa il riassetto delle Sette Sorelle. Adesso credo Erika che ha preso il mio posto, Erika Chiechio che ha preso il mio posto in Bacino Sud e nel CDA dell'Agenzia della Mobilità si concentrerà sull'ex urbano, in particolare sui servizi a domanda debole. Quindi tutto il trasporto dalle valli e dalle zone rurali verso le Sette Sorelle. E continuiamo a parlare di viabilità e in particolare di asfaltatura delle strade provinciali. La provincia sta infatti portando avanti il programma 2020 di interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del piano viabile delle strade provinciali. Si tratta di lavori di asfaltatura suddivisi tra i quattro reparti viabilità di Cuneo, Saluzzo, Alba e Mondovì per un importo complessivo di 1.349.227 euro per ciascun reparto. Il progetto interessa le strade provinciali che presentano i maggiori problemi di cedimenti, buche e danneggiamenti dovute ovviamente agli effetti del traffico intenso, del maltempo e chiaramente anche del passare degli anni. Gli uffici hanno definito gli interventi ritenuti prioritari, tenendo conto dei tratti maggiormente deteriorati e poi stilato un calendario dei cantieri, calendario che è disponibile sul sito internet della provincia. Ed ora proseguiamo il viaggio che abbiamo in qualche modo intrapreso nelle passate edizioni del nostro telegiornale per scoprire come stanno ripartendo i diversi comuni della Granda dopo la fase ovviamente di emergenza dei mesi scorsi. Oggi in particolare ci concentriamo su due comuni, due cittadine vicine a Cuneo. Partiamo da Busca, ai nostri microfoni il primo cittadino Marco Gallo. Il comune di Busca ebbe il triste primato della prima vittima, pianse la prima vittima per Covid-19, circa tre mesi fa, Sindaco, se si guarda indietro a questi tre mesi così particolari, cosa vede, che mesi sono stati, che periodo è stato per il suo comune? Beh, è stato sicuramente un periodo difficile e impegnativo che ci ha messo a dura prova. Noi abbiamo cominciato subito in salita perché c'è stata a inizio marzo la prima vittima e dopo due giorni la seconda. Quindi siamo venuti subito in contatto con la realtà del coronavirus e con questa emergenza che ci ha comunque fatto lavorare in un certo modo in questi mesi, anche in queste ultime settimane. Devo dire che grazie all'impegno di tanti volontari, grazie alla Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri, a tanti soggetti che in qualche modo si sono resi disponibili e abbiamo cercato di affrontare l'emergenza nel migliore dei modi e i risultati si sono visti perché abbiamo avuto in tutto 25 positivi a Busca, quindi un numero estremamente ridotto rispetto ad altre realtà della provincia e in questo momento abbiamo due positivi e tre pazienti in isolamento domiciliare. Quindi sono dei numeri estremamente contenuti che ci permettono ormai da qualche giorno di guardare con un certo ottimismo all'estate. Ecco adesso con la speranza, da qualche settimana, con la speranza di non dover più tornare a quei momenti così drammatici, si guarda avanti. Tutto lo Stato, tutto il Paese ripartito, anche Busca? Con quali prospettive, con quali nuovi entusiasmo? Secondo me siamo in una situazione non più di emergenza sanitaria ma di emergenza economica perché le ferite di questi settimani di lockdown e di chiusura si vedranno a lungo termine per tutta l'estate ma probabilmente anche in autunno. Quindi dobbiamo attrezzarci ad affrontare questa emergenza e un'emergenza che potrebbe lasciare anche conseguenze ancora più gravi di quelle che ha lasciato l'emergenza sanitaria. Io mi auguro che il governo possa nelle prossime settimane, nei prossimi mesi assumere delle decisioni che possano venire incontro alle attività economiche soprattutto quel tessuto sociale di cui sono costituiti i nostri comuni e la nostra provincia che è un tessuto fatto di imprese familiari a livello commerciale e a livello artigianale che sono quelle che hanno patito e potrebbero patire di più in provincia ma in tutta Italia. Quindi c'è bisogno di misure che vadano incontro a questo. Proprio in questi giorni abbiamo incontrato Asso Imprese che è l'associazione di commercianti locali e i proprietari degli esercizi pubblici titolari e stiamo anche con loro insieme cercando di studiare tutta una serie di iniziative per l'estate dall'isola pedonale sabato sera, delle iniziative che speriamo di poter organizzare in estate all'aperto che possono in qualche modo venire incontro ai negozi di vicinato che sono la realtà viva del nostro centro storico. In più abbiamo per ora messo a bilancio 100.000 euro che andranno a favore delle attività che sono state chiuse contro il lockdown e prevediamo di mettere da parte ancora altre risorse che possono aiutare quelle imprese che hanno subito il lockdown ma che cerchiamo di far ripartire insieme. Ora invece andiamo a vedere qual è la situazione nel comune di Boves, abbiamo intervistato il sindaco Maurizio Paoletti. L'emergenza sta in qualche modo rientrando, l'emergenza coronavirus, le città stanno tornando lentamente alla normalità questo ovviamente vale anche per Boves e le chiedo qual è la situazione al momento di casi. Noi abbiamo ancora tre casi positivi, come dicevo siamo purtroppo, abbiamo tutti i casi ospedalieri ancora quindi persone che comunque hanno per motivi di lavoro o per ricovero contratto il virus verosimilmente in quell'ambito. Quindi siamo scesi a tre, speriamo insomma nel giro dei prossimi 10-15 giorni di non avere più nessun tipo di contagio e quindi ci auguriamo che la fase di emergenza sia conclusa qua. Boves, come abbiamo detto, sta tornando alla normalità, alla vita normale. Quali provvedimenti avete preso anche per sostenere questa fase di ripartenza? Allora, noi intanto, devo dire, sono contento perché la fase della normalità si sta spingendo velocemente verso proprio la sua stabilizzazione, quindi mi fa piacere. Abbiamo intanto, come penso abbiano fatto la maggior parte, permesso a tutte quelle che sono le attività, de'ore eccetera, l'ampliamento, abbiamo creato anche delle zone pedonali che vogliamo anche un po' sperimentare per rendere questa città sempre più vivibile. Devo dire con grande successo perché sia i ristoratori sia i bar si sono veramente attrezzati bene, hanno creato degli angoli molto suggestivi in questa città e quindi mi fa molto piacere. Poi abbiamo messo in capo alcune misure economiche che sono, uno, abbiamo fatto uno stanziamento di 100.000 euro e lo stiamo presentando proprio in questi giorni per le partite IVA, abbiamo circa 200 partite IVA che riceveranno dai 630 ai 200 euro in buoni spesa da spendere all'interno di questo comparto che è quello che è stato più danneggiato dalle chiusure. Abbiamo poi stanziato altri 30.000 euro insieme alla sporta per la spesa, quindi con uno sconto di spesa per tutte le famiglie, per tutti quelli che comunque verranno qua a Boves e quindi ci sarà con questo finanziamento di 30.000 che si unisce anche a quello della cassa rurale, quello della sporta stessa, un incentivo a consumare e a far lavorare i nostri esercizi. Da ultimo abbiamo stanziato ulteriori 20.000 euro per le famiglie per venire in conto, soprattutto a quella che è l'estate ragazzi, avremo un'estate diversa, le feste probabilmente saranno annullate, tutta una serie di cose diverse, ma io credo che questa città sarà comunque bella e vivibile lo stesso. In conclusione le chiedo, dovesse dare un giudizio ai suoi cittadini, come si sono comportati i bovesani durante l'emergenza? Direi assolutamente bene, i casi di violazione sono stati veramente sporadici, quindi io li ringrazio tutti perché abbiamo avuto veramente una osservanza sia durante le chiusure totali ma anche nella fase successiva. Non abbiamo visto grandi assembramenti, eccetera, devo dire che i cittadini lo hanno preso con grande senso di responsabilità. Ed ora parliamo di sanità. La pandemia Covid non ha avuto soltanto tra i suoi esiti molti morti e un cambiamento dello stile di vita tra i cittadini, ma anche un effetto devastante sulle malattie oncologiche, soprattutto per quanto riguarda il tumore al polmone. A lanciare l'allarme è Giulio Melloni, direttore della chirurgia toracica dell'azienda ospedaliera Santa Croce Carre di Cuneo, unico reparto a servizio di tutta la grande. Durante l'emergenza Covid, spiega Melloni, ci siamo ritrovati in una situazione tipica del passato per quanto riguarda la diagnosi precoce del tumore. La pandemia ha bloccato anche i percorsi diagnostici che permettevano di andare velocemente a diagnosi, prosegue Melloni. Inoltre c'è una quota di pazienti asintomatici che sono a casa soltanto perché non hanno fatto una banale lastra a seguito dell'interruzione dell'iter di un intervento operatorio. Ribadiamo che l'ospedale è un ambiente sicuro, sottolinea Alessandro Garibaldi, direttore sanitario di Presidio. Gli operatori utilizzano i dispositivi di protezione, gli ambienti sono sanificati e vengono garantite le distanze spaziali e temporali. E prima di ogni intervento operatorio il paziente è sottoposto a tamponi. Conclude Alessandro Garibaldi, la sicurezza è massima. Cambiamo argomento, tutto ebbe inizio il 12 giugno del 1945. Confartigianato in prese Cuneo taglia oggi l'importante traguardo dei 75 anni di vita associativa. La ricorrenza è stata celebrata con la consegna di una bandiera commemorativa a 18 sindaci della Granda. Vediamo la consegna venuta questa mattina nel comune di Cuneo. Presidente Felici, oggi si ricorda un anniversario molto importante. 75 anni di vita di confartigianato. Confartigianato che è nata da un minimo numero di artigiani che volevano guardare avanti, unendo le forze e cercando di lavorare per il comparto. Oggi sono una realtà importante, la seconda in Italia, una realtà che adesso più che mai deve guardare al futuro. 75 anni di grande lavoro, di grande fiducia nelle proprie forze a dispetto della condizione ambientale. Può sembrare banale dire che Confartigianato è stata a fianco degli artigiani, ma se non ci fosse stata la nostra associazione, probabilmente tantissime di queste aziende non avrebbero avuto le informazioni necessarie per continuare a stare sul mercato in una situazione ambientale come quella italiana che non è una novità e molto poco favorevole all'impresa con le tasse e la burocrazia superiori a tutte quelle che ci sono nel resto dei paesi del mondo. Quindi questo anniversario ha anche un significato profondo sotto il profilo anche un po' così fatale. Perché? Perché noi uscivamo dal disastro della seconda guerra mondiale, un confronto tra blocchi che ha devastato il mondo, e approdiamo a un altro disastro che è quello del Covid. Solo che una volta noi avevamo l'entusiasmo e c'era un piano Marshall importante che era veicolato da tutta una serie di strumenti che garantivano la ripresa. Adesso noi abbiamo altri paesi che anziché marciare al nostro fianco ci remano contro. Sarà una situazione molto difficile, molto dura. Io sono convinto che il tessuto imprenditoriale italiano sia migliore e più attrezzato rispetto a quello degli altri paesi. basterebbe solo cambiare rotta a livello di governo per cercare di dare una visione al paese votata allo sviluppo e non all'oppressione di chi fa impresa. Siamo pronti a ricominciare mettendoci uno spirito ottimistico perché pensiamo vivamente che il mondo artigiano debba dare tanto e tantissimo nonostante tutte quelle che sono le lentezze burocratiche che ci compongono. Da oggi su 18 comuni sventolerà il vessillo di confartigianato. Qual è il messaggio che porta questo vessillo alla terra cunese? Un messaggio di vita e di presenza. L'abbiamo voluto fare con 18 bandiere proprio per andare a ricordare a tutti come l'artigianato è vivo nei vari comuni e l'artigianato è un punto di forza dal quale ripartirlo. Le nostre comunità non possono prescindere dalle imprese dalle micro e piccole imprese che fanno parte di questo tessuto sociale e servono per tenere vive le nostre comunità. Il messaggio è un messaggio di fiducia e di speranza. 75 anni fa, dopo la grande guerra sulle macerie del nostro paese distrutto dal nazifascismo la piccola e media impresa si è messa insieme e ha saputo fare squadra basandosi su quelli che sono i valori della cunesità la dedizione al lavoro e la capacità di fare squadra e questo è l'auspicio che abbiamo oggi oggi dobbiamo ricostruire un'economia dobbiamo ricostruire un'economia che tenga conto della solidarietà della sostenibilità e insomma credo che quello di oggi la bandiera che da oggi sventola qui in comune sia di buon auspicio per il futuro. E nel tardo pomeriggio di oggi la bandiera commemorativa di Confartigianato è stata consegnata anche in provincia. Ascoltiamo le parole del presidente di Confartigianato Imprese Cuneo, Luca Crosetto. 75 anni di Confartigianato Imprese Cuneo un anniversario che testimonia l'importanza delle piccole e medie imprese artigiane nel tessuto economico della nostra provincia. Sicuramente 75 anni per onorare migliaia di imprenditori e di imprenditrici che hanno reso grande questa associazione permettendola di diventare la seconda associazione in Italia. Oltre 350 dirigenti che giornalmente si impegnano sul livello provinciale, regionale e nazionale per essere accanto alle problematiche delle nostre imprese insieme ai 200 collaboratori di Confartigianato Imprese Cuneo che da sempre mettono le nostre aziende il nostro territorio di fronte a tutto. Quindi una grande attività sindacale che ci auguriamo anche per i prossimi 75 anni possa rappresentare al meglio il mondo delle piccole e medie imprese. Oggi è stato consegnato il vessillo con il logo di Confartigianato Imprese Cuneo 75 anni a ben 18 comuni del nostro territorio in rappresentanza degli uffici zonali dell'associazione ma non solo, anche al presidente della provincia. Qual è il messaggio che portano questi vessilli sul nostro territorio? Visto una situazione difficile legata al Covid di questi ultimi mesi abbiamo dovuto cambiare quelli che erano tutti le varie festeggiamenti e ricorrenze che avevamo messo in piedi per questa giornata quindi abbiamo voluto onorarla e ricordarla attraverso la consegna di 18 vessilli perché volevamo rappresentare al meglio il nostro legame col territorio quindi quel valore artigiano che volevamo rappresentare al meglio con i sindaci delle città, con coloro con cui ci confrontiamo giornalmente. E infine il presidente della provincia perché da sempre la provincia è accanto a quelle che sono le esigenze anche delle nostre aziende le esigenze che Confartigianato giornalmente porta avanti quindi un grazie soprattutto a queste persone, ai sindaci a coloro che giornalmente impegnano la loro attività su questo territorio perché vogliono far sempre continuare a rendere grande le nostre imprese per difendere quel made in granda che tutti ci invidiano. Lavoro, torniamo a parlare della situazione degli stabilimenti Exilva come abbiamo detto più volte insomma sul futuro degli stabilimenti pendono pesanti interrogativi due, lo ricordiamo, gli stabilimenti Arcelor Mittal presenti sul territorio regionale Raconigi con circa 140 dipendenti e Novi Ligure con 700 dipendenti circa. Bene, in queste ore l'assessore regionale al lavoro Elena Chiorino ha scritto una lettera al Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli proprio per chiedere un incontro immediato. Oggi, ha scritto Chiorino, non abbiamo contezza del piano industriale, di quale sarà la produzione e del perimetro occupazionale. Nulla neppure per ciò che concerne la composizione societaria e il possibile ingresso pubblico del governo. La situazione rimane in piena incertezza. Perdere l'acciaio, ha proseguito Chiorino, significa perdere migliaia di posti di lavoro e la sovranità del paese. È ora di agire e di farlo in fretta. Il tempo delle chiacchiere e delle promesse deve finire. Questa è la posizione dell'assessore regionale. E ancora, parliamo invece di sport, in particolare di pallavolo maschile di serie A2 e di un nuovo arrivo in casa Cuneo Volley. Al fianco di Sighinolfi, direttamente da Trento, arriva al centrale Lorenzo Codarin. Cresciuto nel bivaio Trentino, per tre stagioni ha militato in A2 con potenza Piccena e Brescia, finché due stagioni fa è stato richiamato a casa da coach Lorenzetti per completare il reparto centrali. Cresciuto in una famiglia di calciatori, l'atleta si è avvicinato alla pallavolo più per attitudine fisica che per passione, ma una volta prodato in casa Trentino Volley ha poi trovato l'ispirazione, come dichiara lui stesso. Soddisfatta di questo acquisto la squadra cuneese, in particolare coach Roberto Serniotti. Sono molto contento dell'arrivo di Lorenzo nel nostro gruppo, ha dichiarato l'allenatore. È giovane, bravo tecnicamente e certamente porterà l'esperienza maturata a Trento e prima ancora nelle stagioni di A2. E proprio come nelle precedenti stagioni in A2, il centrale scenderà in campo con la maglia numero 2. Bene, siamo in chiusura. Prima di lasciarvi vi ricordo due appuntamenti che riguardano la nostra emittente, in particolare per questo fine settimana. Il primo è l'appuntamento con il Vangelo della Domenica, la rubrica in cui Monsignor del Bosco o Escovo delle Diocesi di Cuneo e Fossano commenta come sempre il Vangelo del fine settimana. L'appuntamento è per sabato alle ore 18.15 e domenica alle 11.15. Il secondo appuntamento che vi ricordo riguarda invece Granda Sette, il rotocalco che in qualche modo ripercorre l'informazione della settimana. L'appuntamento è per sabato e domenica alle ore 19 e alle 22. Bene, non ci sono altri aggiornamenti. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento con la programmazione della nostra emittente. Arrivederci! Grazie a tutti!